La residenza dell'Istituto Italiano di Cultura è stata di fondamentale importanza per me e per questo ringrazio Marina Valenzise perché questo mese passato qui a Parigi è stato molto stimolante. Questa sera all'Istituto abbiamo presentato un concerto insieme a Luca Bergamelli, voce, Franco Venturino e pianoforte in cui sono stati suonati due miei brani, Don't Shoot the Piano Players del 2011, una serie di sei brani per pianoforte e Bestiaire Remix che era una prima esecuzione assoluta per voce pianoforte e che è stato scritto durante il periodo di residenza. Grazie a tutti E' sempre un piacere per me tornare in questo luogo come ospite e poter esprimermi e stasera in particolare è un'occasione in cui appunto si consolida per me una collaborazione sia artistica che umana con Vittorio Montati, con Livo Bergamelli che sono colleghi e amici da tempo e con cui ho già collaborato in passato e questo è il momento per me di consolidamento di questo coniubio artistico che spero avrà un cammino molto lungo. Con Vittorio Montati c'è un rapporto di lunga data, da quando ho eseguito il suo bestiere per voce e percussioni poi sono stata scelta come una delle sue interpreti. Te sei ingannato, 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 te sei ingannato. Lavorare con Livo Bergamelli e Franco Venturini è stato molto bello per me ed è in realtà una collaborazione quella con i due musicisti che va avanti da qualche anno posso dire e c'è qualcosa che li accomuna e c'è il fatto che ho trovato da subito una forte affinità rispetto alla mia musica, cioè ogni volta che ho dato dei pezzi a loro e quindi ho affidato di alcuni miei brani a loro, sin dalla prima volta, quindi sin dalla prima occasione di lavoro quando non li conoscevo subito i miei brani sono stati capiti dall'inizio alla fine e praticamente non ho dovuto aggiungere niente. Questo per un compositore è una grande soddisfazione.